Siamo qui con Gianni McEsan, Partner Tecnico della Rd Events di Dossiero Frey Deschamps sin dalla prima edizione, quella di marzo 2015, più o meno, siamo infatti alla quarta per la terza volta. Sì, è stata una bellissima esperienza con un partner straniero, Alfe, di cui siamo molto amici e collaboriamo già ancora da 4 anni. Stiamo ora, per il prossimo anno, tentando di instaurare altri rapporti con altre piste straniere, dove già nella primavera è stato anticipato questo nuovo campionato che si chiama WEC, il World Endurance Champion. che fa una tappa sia qui a Ieslo, in Marocco, ad Agadir, a Messina e per ultimo alla pista di E6 in Francia. È una cosa nuova, abbiamo tentato di fare questa collaborazione tra i vari freddivisti per dare una cosa nuova. Quindi questa è la nuova frontiera della coppiata di Ivans e Isonino Capacini. Si è la faccia, ma che so. Quindi già abbiamo scoperto la novità per il futuro, controlliamo le date perché chiaramente... La prima data è a E6 in Francia e la seconda sarà proprio qui, il prossimo 15 aprile 2019, qui alla pista di Europa. Con quella che noi conosciamo, conoscevamo fino a quest'anno, come Ieslo più 1K, che quindi diventerà la WEC. E tra WEC, attenzione, karting quindi da WEC, non da WEC, come il bulliano invece delle macchine e via delle kart. Esatto, perfetto, grazie Gianni Marquesani. Grazie.